Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Chan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un video tag. Questo video tag è stato creato da Dada Chan Arts Stories e Ashura's Corner, che saluta entrambi, e hanno deciso di creare questo bellissimo tag che è chiamato proprio Action Figure Tag. In pratica sono 16 domande incentrate proprio sul mondo delle Action Figure. Numero 1. Qual è stata la tua prima Action Figure, il primo gadget e quanti anni avevi? Allora, mi ricordo che avevo su 12 anni e la prima Action Figure che ho preso fu questa qui. Eccola qua, delle Pretty Cure. È veramente bellissima, ben realizzata e mi sembra la pagai su 8 euro. È veramente particolare e mi piacque fin da subito. Per quanto riguarda il gadget ho preso questo qui. Eccolo qua, il portachiavi proprio di Naruto. È veramente bellissimo anche questo. Domanda numero 2. Grazie a quale serie hai iniziato la tua passione dedicata a questo tipo di collezionismo? Allora, iniziai sempre a vedere Sailor Moon e poi Nadia Apple Feed, ma soprattutto fu anche proprio Naruto a farmi affezionare tantissimo le Action Figure. Infatti poi decisi di prendere la chiave di Naruto. Tra quelli che possiedi, quali sono le tue Action Figure o i tuoi gadget preferiti? Allora, di Action Figure che mi piacciono particolarmente ce ne ho diverse. Vi faccio vedere quelle che mi hanno colpito di più e che le trovi a un buon prezzo. Guardate questa qui. È veramente bellissima. Mi piacciono fin da subito i capelli. È veramente ben realizzata. Poi mi piacciono tantissimo sempre per quanto riguarda questo protagonista qui e questa. E qui i capelli sono veramente bellissimi. Poi fanno da base. Eccola qua. Il bianco è fin da subito. E l'ultima che vi vado a far vedere è questa qua. Che serve per una di One Piece. Su cui si può staccare. E qui c'è il suo piedistallo. Ma ce ne sono parecchie che mi piacciono particolarmente. Ho per esempio Asuna in versione ballerina. Eccola qua. Quelli diciamo con i capelli rosa sono tra le mie preferite. Anche questo. Domanda numero 4. Qual è la tipologia di action figure che preferisci? Nandoroid, Petite Chara, Statica, Dinamica, Gashapon. Allora, a me mi piacciono tantissimo le Petite Chara e le Statiche. Ma soprattutto le Statiche. Se mi piacciono particolarmente. Sono quelle diciamo che preferisco di più. E le Petite Chara sono veramente bellissime. E non vedo l'ora infatti di andare al prossimo Luca Comics and Games. Per prendermi quelle piccoline per quanto riguarda Sailor Moon. Ci piacerebbe tantissimo prendermi Sailor Venus e Sailor Moon. Veramente, ci piacerebbe veramente tanto. Numero 5. Fino a quando saresti disposta a spendere per un action figure gadget? Allora, qui sarei disposta, diciamo, sì, 40 euro. Proprio se mi piacesse particolarmente 50 euro. Però non tanto di più. Quindi, sì, proprio direi 50 euro. Domanda numero 6. Qual è stata la più costosa che ho acquistato? Allora, la più costosa che ho acquistato è stata quella di Loh. Eccolo qui. L'ho presso su 25 euro. Mi sembra 25-30 euro. Eccola qui. È meravigliosa. Poi io adoro il personaggio di Loh in One Piece. È uno dei miei personaggi preferiti. E questa qui mi piacque particolarmente. La trovai a un buon prezzo. Mi piacque perché dietro era veramente ben realizzata. Come pure sul davanti. Ha tutti i dettagli perfetti. Poi l'immagine proprio del viso mi piacque particolarmente. Eccola qua. Domanda numero 7. Qual è stata la meno costosa che ho acquistato? Allora, qui mi sembra spesi su 5 euro. Però è deliziosa. E presi questa qui. Eccola qua. Gohan e Videl. Great Simon e Videl. Lui che le spunta dal dietro con il mantello. Bellissima. La pagai a 5 euro. Però purtroppo il negozio dove ho preso questa qui è chiuso. Quindi non ho potuto prenderne altre. Domanda numero 8. Cosa ne pensi delle riproduzioni cinesi? Non mi piacciono tantissimo perché hanno un prezzo buono. Quello sì. Però purtroppo anche dato proprio il prezzo buono si rompono quasi subito. E purtroppo ho avuto anche delle action figure che proprio cinesi e mi si sono un po' sciupate durante il corso degli anni. Quindi non è che le apprezzo tantissimo. Preferisco le originali. Domanda numero 9. La tua action figure femminile preferita? Allora qui sono andata su Miku. Se dovessi scegliere. Sailor Moon e Mercury. Poi ho trovato anche una dei decimo che mi è piaciuta particolarmente. Ma mi piacerebbe tantissimo avere quella di Miku. Miku è un personaggio veramente bellissimo che mi piacerebbe tantissimo averlo nella mia collezione in versione proprio action figure. La tua action figure maschile preferita? Allora in questo caso mi piacerebbe tantissimo prendere quella di Doflamingo. E poi ho visto una bellissima con low e rubber. E proprio in posizione di combattimento. Mi è piaciuta particolarmente e prima o poi forse me la prenderò perché penso sia molto costosa. Domanda numero 11. Se una persona o un personaggio veramente esistente venisse riprodotto in stile action figure, quale desideresti che fosse? Allora qui ho pensato a Jennifer Lawrence, nella protagonista proprio di Hunger Games. Mi piace tantissimo il momento in cui praticamente dall'abito bianco si trasforma in quell'abito nero proprio a forma di ghiandai imitatrice con le ali. Ecco mi piacerebbe tantissimo avere un action figure di lei in quella posizione con le ali spiegate. Mi piacerebbe veramente tanto. Domanda numero 12. Qual è l'action figure che desideresti di più possedere? Sia se è rara sia se è costosa. Allora qui ho trovato una Serenity con una luna dietro. Veramente bellissima. Non immagino il prezzo perché è veramente qualcosa di splendido. Mi sembra una figure art. Mi sembra di questa grandezza qui. Allo sfondo azzurro dove lei è poggiata proprio a sedere. Poi il vestito è veramente ben fatto. Ha delle pieghe veramente raffinate, veramente ben fatte. Poi il viso è particolare, molto espressivo. I capelli che le scendono sotto in versione proprio Serenity in questo caso. Quindi col vestito bianco e i capelli lunghi. È veramente deliziosa. Comunque vi lascio qui accanto un'immagine così potete apprezzarla meglio anche voi. Numero 13 Secondo te qual è la figure fatta peggio o poco conforme all'originale? Allora qui è stato difficile perché per ora non ho visto action figure fatte male e che non mi hanno colpito particolarmente. L'unica cosa che forse non mi colpisce particolarmente sono le nove pop di Sailor Moon. Non mi piacciono molto come le hanno realizzate. Quindi direi queste. Domanda numero 14 Hai mai pensato che un action figure che possiedi si potesse animare? Se sì, cosa immaginassi che facesse? No, qui no, non ho mai immaginato che un action figure si animasse. No, neanche quando ero piccola. Domanda numero 15 Cosa preferisci? Packaging originale, mensola o vetrina? Allora mi piacciono sia la mensola che la vetrina. La mensola perché riesco a vedere ogni mattina. Quando mi alzo e le action figure che possiedo. Mentre la vetrina mi piace tantissimo. A me è molto costosa perché protegge tantissimo sia dalla polvere che proprio dall'usura del tempo. Quindi mi piacciono entrambe. Però diciamo che forse preferisco la vetrina. Domanda numero 16 E l'ultima Qual è stata l'ultima action figure gadget che hai acquistato? Allora sono state proprio le action figure di Lowe e la pop di Freezer. Eccole qua. La pop di Freezer vi metto qua nella foto. Eccole qua. Bene, con questo le domande sono terminate. Spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere anche cosa avreste risposto voi con un commento qua sotto o anche con un video. Sarei molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!